Qualche consiglio per organizzare una mostra personale di pittura. L'altro investimento che può sembrare banale, ma a mio avviso non lo è, potrebbe essere quello di un curatore. Cioè una persona esterna che di mestiere cura mostre, esposizioni. Cioè sa come proporre il vostro progetto al pubblico. Qualcuno potrebbe dire, vabbè l'ho fatto io il progetto, non so come proporlo. E in certi casi sì, perché effettivamente chi realizza il progetto spesso se ne innamora anche. Il curatore è quello che ha uno sguardo oggettivo sul vostro lavoro. Il vostro sguardo sul vostro lavoro è per forza soggettivo. Quindi il curatore è quello che da fuori vede magari con un po' più di ordine e quindi sa anche ridisporre meglio tutto quello che voi volete proporre al pubblico.